Di nuovo qui sulla direttissima, qui sulla Miata, sono con Alexander e Leonardo. Allora, avete appena concluso questa piccola gara che è una festa tra di voi, e lo Chic Club e Montemiata Ovest, come è andata? Andata molto bene. A me e anche a me è piaciuta tanto. Eh, si, alzate un pochino la voce. Allora, c'è stata una bimba che si è lamentata della neve che non era tanto dura, tanto gelata. Voi che dite? Beh, allora, oggi ci siamo... Alza la voce. Meglio, cioè, peggio dell'altra volta, perché l'altra volta la neve era molto fresca, però si è scegliata bene anche oggi. Eh, come la preferisci questa neve tu? Più morbida. Più morbida? Eh, ha nevicato l'altro giorno, le temperature sono rigide, non c'è il sole, quindi la neve... poi c'è stata tanta gente, quindi la neve è anche un po' consumata, no? Per certi versi. Alexander, questo slanome, eh, come ti è sembrato? Semplice, facile, come? Allora, a me l'inizio è stato facile, è quando sto benveni giù che è un po' riuscito a rallentarlo. Qualche difficoltà? Eh, l'ho visto una piccola apertura di punta, ti ho visto qui. Allora, però, insomma, al di là di tutto, come... è una bella festa, no? Mi sembra, eh? E' tra di voi, tutti amici. Eh, chi c'è qui? Come ti chiami? Vieni qua. Giovanni, ora faremo anche con Giovanni. Allora, avete qualcuno da salutare? Eh, mio padre. Tuo padre, di il nome del babbo. Francesco. Il nome... allora, Leonardo, te ti chiami come mio nipotino e Francesco si chiama come mio figliolo, quindi io mi ricorderò di Leonardo e di Francesco. Eh? Allora, tu, Alexandre... Io ho reso il mio compagno di classe, Matteo... Il tuo compagno di classe si chiama? Matteo. Matteo. Quanti anni avete? Scusate, non ve lo... 12 e 13. 12 e 13. Allora, tanti auguri, buona festa. Domani e domenica la scuola non ci si va, domani che si fa? Ma io domani... Sì? Sì, c'è un'altra casa. Eh, lo so, siete impegnati verso... con lo scogliattolo. Oggi eravate con gli amici dello Sciclè e Bamiata. Ciao Leonardo, ciao Alexandre. Ciao. Ciao. Ciao.